ciao a tutti buon tornati sono sera vi mostro l'ammazzanti è scaricata con l'ultimo aggiornamento una bestia di macchina come ho ripetuto nei video auto che costa 5,99€ ma con il pass è gratis season pass usate un'auto con molta potenza ma divertente da guardare come tutte le altre scaricare comunque molto veloci credo che sia un altro giro italiano credo non molto famoso sono la sono sono grazie con la Grazie a tutti. Grazie mille a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Se volete iscrivervi al canale per nuovi video, fate pure. Grazie, ciao ciao.